Secondo episodio di DDD Devo dire, secondo me dopo questo secondo episodio abbiamo avuto la conferma di quanto questo anime è sopra le righe Cioè di quanto non gliene frega un cazzo di essere politically correct, come si dice, o family friendly Parlano di sesso tra professori e studentesse minorenni Di body shaming con il fratello della protagonista, Ciccione, che dice no Ti ricordi quando ci eravamo promessi di metterci insieme? Ma con un ciccione di merda, ma perché? Ma perché dovrei fare? Quindi con un ciccione scordatelo Quindi sì, devo dire che queste cose le apprezzo perché c'è bisogno ogni tanto di anime di questo tipo Cioè che anime che non, come dire, non si allisciano l'opinione pubblica, mettiamola così Cioè che dicono le cose come stanno, anche abbastanza realistici nel senso Forse un po' eccessivi nelle risposte su alcune cose perché, parliamoci chiaro Cioè per come si comportano i personaggi c'è la cosa che dice ad esempio il professore qui Quando ti sarai diplomata uscirò con te tutte le volte che vorrai Se ti va bene come scopamica Cioè hai capito? Non è proprio la classica cosa che vedi, che vedresti in un anime Ma non solo, anche nella realtà Cioè ma non so quante persone reputano una frase di questo tipo detta da un professore realistica Comunque non tutti i professori penso reagirebbero in questo modo Però sì dai, bello, bello Soprattutto io per ora vi continuo a dire che Oran, o Ontan come la chiama la protagonista È mia figlia, mia sorella, è proprio troppo 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 carina Mi piace molto come si comporta, le cose che dice È veramente eccentrica, cioè veramente strana È proprio un personaggio, cioè un personaggio ma sia fittizio che Se volessimo anche parlare fosse reale questo personaggio Molto strano come si comporta Però troppo simpatica dai È veramente veramente molto fiera Esprime fierezza un personaggio come Oran Cioè quasi ogni volta che apre bocca Al 50% dirà qualcosa di cari... dirà qualcosa di particolare Ma che comunque te lo fa risultare divertente Tipo qua quando dice stolto ingranaggio della società Capace solo di chiacchiere superficiali Cioè dai è troppo troppo bella, è troppo bella Mi fa morire Per il resto comunque se volessimo riassumere l'episodio Poi ecco Potremmo anche parlare due secondi di questo, eh Ma proprio due secondi, giusto per chiarire un attimo Allora, cos'è questo? Cioè nel senso la forma È inequivocabile Però è veramente un massaggiatore del mento Perché so che esistono in Giappone queste cose Però il fatto che... Ma ti pare che io uso quel coso? Che vuol dire? Ti pare che io uso quel coso? Se ce l'hai in casa Forse lo userai O chi lo usa? La usa... Perché vive da solo sto professore Quindi boh lo usa il suo alter ego La sua doppia personalità? Non lo so Però comunque sì Questo episodio a parte Come dire La parte in cui lei va a casa del professore E la questione inerente all'UFO Che cade e Hontan Che trova questo aggeggio Non è che c'è proprio troppo troppo Ci presentano comunque qualche nuovo personaggio In particolare In realtà I due nuovi personaggi sono Il professore e il fratello di Hontan Oran Che pure lui devo dire Ha il suo stile Ha il suo stile C'è un triplomento per carità Ma ha il suo stile Questo personaggio qua E... Mi ha fatto anche ridere Che dopo che la protagonista Kadode Ha detto Ma ti pare che io mi metto con un ciccione? Si è messo a correre pure lui È andato a fare jogging pure lui Quindi vuol dire che è comunque un po' interessato a Kadode E in realtà questa cosa l'avevo capita anche da quando la vede Ma guarda Cioè anche lui esprime proprio come la sorella Mi trasmette proprio fierezza E si era capito che secondo me che era interessato alla sorella Principalmente per questa cosa qua Appena lei entra si vede che lui arrossisce Guardalo Sull'attenti Arrossisce sulle guacce Quindi Sì si era Si era un po' capita questa cosa E poi vabbè arriviamo al finale dell'episodio Che mo In cui usano questo nuovo macchinario per abbattere gli UFO Quanto fiere Ma quanto fiere con questi occhiali Veramente bellissime E... In cui abbattono l'UFO E successivamente si vede questo tizio in mezzo alla folla Che a quanto pare è L'idol morto Cioè l'idol che Sarebbe dovuto essere morto Questo qua Che dice che sono morte parecchie persone Eh sono morti in tanti Si riferisce forse alla navicella spaziale Che magari conteneva Degli ali Tanti alieni Però Cioè per quello che abbiamo visto noi fino ad ora Ci sono due cose All'interno di questo anime Gli alieni in versione bambini piccolini E quei globi rossi Che se toccati ti uccidono Che si sono visti nel episodio zero Che vabbè Non avremmo dovuto vedere Ma comunque Quindi Non so Cioè alla fine questo raggio Ha colpito Questa navicella di 50 metri Che sembrava pure Relativamente piccola Se vi devo dire La verità E Rivediamo un attimo Questo colpo Cioè non mi sembrava Una navicella così grande Quindi E in realtà Non l'ha neanche colpita In pieno Poi per carità Forse con la caduta Sarà esplosa E sono morti Quelli all'interno Quindi chissà Magari questa navicella Conteneva tanti alieni Magari una decina Che ne so Oppure molti di più È particolare Particolare E poi sì Questo tizio Dopo aver detto Questa roba Di Salve a tutti Sentiamo bene Esattamente Nel caso voi Non aveste capito Ve lo rimetto Alzando il volume Esattamente Quindi Scopriremo nel prossimo episodio Chi è lui Cosa Vuole fare Probabilmente È un Un uomo Un essere umano Controllato da un alieno Perché se vi ricordate Nell'episodio zero Spoiler Abbiamo scoperto che Gli alieni Possono entrare Nel corpo Degli esseri umani E controllarli Dall'interno Però sì Dovrebbe essere L'idol Che è stato citato Eccolo qui Che è stato citato In questa cosa qua Si capisce Sì vabbè La faccia è un po' Diversa Ma si capisce Dai due Nei Che voi forse Non vedete adesso Dalla live Ma si vede da qua Che è lui Che è questo idol Qua che Appunto C'ha sti due Nei Qua molto più Molto più evidenti In questa In questo Momento Mannaggia L'episodio zero Quanto è fastidioso È abbastanza Posso dire Abbastanza Poi non so Voi cosa avete da dire Su questo episodio Vediamo un po' Sembrano abestemmi al contrario Potrebbe essere Potrebbe essere È un massaggiatore a rolli Per il viso Sì lo so Lo so che esistono Cose di questo tipo Però Essendo che c'ha la forma Proprio da Da cazzo Lo so Era particolare Era particolare In teoria il prof Potrebbe mettersi Con un'ex studentessa Sì Sì Infatti non ci sarebbero Non credo Non credo ci sarebbe Nessun problema Però è il modo In cui lo dice Che Non lo so Nel senso Non mi sembra molto Da professore Cioè Mi raccomando Dopo che avrai finito il liceo Ne riparliamo Come scopamici Mi raccomando Quindi Il sensei è un po' too much Cioè non mi sembra Molto realistico Il sensei Però comunque fa ridere Cioè Preferisco anime di questo tipo Un po' sopra le righe Un po' più Esagerati su queste cose qua Anche su quello che dicono I personaggi Che molto spesso Se ne escono con Espressioni Abbastanza colorite Di anche insulti O cose di questo tipo Piuttosto che i soliti anime In cui tutti sono carini Dicono cose perfette Preferisco ogni tanto Anche cose di questo tipo Sì le conversazioni sono pic Assolutamente Le conversazioni tra i personaggi Soprattutto quando c'è di mezzo Ontan Sono picco Picco totale Picco totale Sono d'accordo con Kenshiro777 Assolutamente Non guardate l'episodio 0 Dopo questo episodio Non ne parleremo più Ma ripeto Alla fine Le cose che ci siamo Spoilerati nell'episodio 0 Non sono neanche Tantissime Per fortuna Ma purtroppo Quelle due tre cose importanti Ce le siamo spoilerate Secondo me ci sta di peggio IRL Vabbè grazie al cazzo Ci sta sempre di peggio Ma Di solito no Poi soprattutto in Giappone Non è che Non credo che i professori Siano così Se continuano così Potrebbe diventare il migliore Della stagione Guarda per ora Posso dirti che Stipini due episodi Secondo me sono abbastanza Sono ottimi Non ci vedo niente di sbagliato Non mi pare che stiano andando lenti Anzi È un ritmo che mi piace Se anche il prossimo episodio Fosse così Non mi creerebbe problemi Cioè che a livello Che magari non succede Troppo nel singolo episodio Rispetto a quello che Insomma già sapevamo Però sì Mi sta piacendo Come migliore della stagione Non ti so dire Non ti so dire Adesso dopo In realtà io aspetterei Il prossimo episodio Ma Adesso dopo Due episodi e mezzo Tre episodi Quello che è Nella tier list Lo metterei In realtà mi sa che comunque Già l'ho arrancato Quindi non è che cambierebbe troppo Andiamo a vedere Non l'abbiamo messo Ah no no l'abbiamo messo In A Sì Guarda Secondo me Può tranquillamente Anche a breve Tra pochi episodi Arrivare ad S Ma per ora Per ora Non lo so Non lo so se arriverà qui Capito Questo è un po' Particolare Però sì Secondo me può tranquillamente Superare Ranger Assolutamente E My Hero Academia In realtà Pure My Hero Academia Secondo me può salire Se vogliamo parlare di anime Che hanno il potenziale Per salire Sicuramente questi due Sicuramente Ranger Ultimamente no Jellyfish Vabbè lo sappiamo Che è soggettivo C'è chi vorrebbe Jellyfish qua sopra Ma io per ora Non lo metto qua sopra Quindi Sì Secondo me può tranquillamente salire Però non ti saprei dire Migliore della stagione Tra i migliori Forse sì Ma migliore no Non mi dà questa impressione Però chissà Per quanto riguarda il voto Attenzione Attenzione Udite Udite Utilizziamo Finalmente Questo sistema Per dare il voto Perché per chi non lo savesse Esiste il Sito Di Reanime Che potete consultare Insomma dove Dove volete E semplicemente Cliccando Demon Eccolo qua Dead Demons Oh È stato già creato L'episodio 2 Perfetto Titolo dell'episodio In realtà Non ha un titolo Quindi lo chiamiamo Episodio 2 E adesso vediamo Per quanto riguarda i voti Quindi prima Facciamo la media Vediamolo da qui Che voto ho dato Allo scorso episodio Ho dato 8 più Allo scorso Cioè 8.3 Quindi 8 più Allo scorso episodio E 8 più A questo 8 8 meno Meno dello scorso Lo scorso era più bello Diamo 8 per adesso Diamo 8 Vediamo pure Il vostro voto Qual è Così mi allineo Un attimo Come avete dato Abbiamo detto 8,52 Quindi lo mettiamo qui Voto della chat 8,52 Cioè 8.52 Mi devo ricordare Che non devo mettere la virgola E Va bene Vi confermo l'8 Ha giudicato E adesso dovrebbe uscire Sul sito L'episodio 3 Ah Aspettate Aspettate Ecco perché Ecco perché Perché dovevo mettere pubblicato Dovevo mettere Mi sono Mi sono sbagliato Adesso dovrebbe uscire Eccolo qua Eccolo qua E a questo punto Cambiamo pure il titolo Degli altri episodi Perché mi dà fastidio Che non si hanno messi bene Quindi episodio 0 Lo chiamiamo Episodio 0 E episodio 1 Lo chiamiamo Episodio 1 Semplicemente perché Su Su Crunchyro Lo sono chiamati così A posto direi Quindi sì Sta continuando comunque Bene Demons Spero che potremmo pure Alzare Alzare sti voti Nei prossimi Nei prossimi episodi Ottavo episodio Di Konosuba Episodio In cui si conclude Il combattimento Con l'idra Che se vogliamo dirla tutta Io credevo Avrebbero spiegato Come mai Darkness Voleva a tutti i costi Sconfiggere Quest'idra Ma per ora Non si è capito Non si è capito Come mai Spingeva così tanto Io in realtà Credevo che Fosse importante Perché Forse gliel'aveva ordinato Qualcuno La sua famiglia O perché Lei dice sempre Che ha dei doveri In quanto Comunque La latina Dustines Che deve proteggere Le persone Quindi magari Lo voleva fare Per un senso Di O un qualcosa Magari che era successo In passato Legato a quest'idra Che voleva Risolvere una volta Per tutte Ma non ce l'hanno spiegato Come mai Era così fissata Con quest'idra Di certo Non mi aspettavo Dato che Sembrava una cosa Risolutiva Il fatto di sconfiggerla Non mi aspettavo Che come risultato Della dipartita Dell'idra Avremmo avuto Darkness Che se ne va Dal party Che se ne torna Per qualche motivo A casa sua E anche qua Mi viene difficile Pensare cosa Può essere successo Perché già Nella seconda stagione Avevamo avuto L'arco Gli episodi Dedicati a Darkness Che doveva Sposarsi Con un principe Ma Kazuma l'ha salvata E l'ha riportata Nel party Adesso sta succedendo La stessa cosa Non credo proprio Cioè non credo Che sarà un altro Matrimonio Quindi Boh Non lo so Sarà magari qualcosa Inerente a quel Vecchio Che abbiamo visto Negli scorsi episodi Che sembrava essere Molto interessato A Darkness Quello dove loro Sono andati A casa sua Per risolvere Il problema Di quel ladro Se vi ricordate Quello lì Che aveva lo specchio La stanza La stanza specchio Per vedere dentro I bagni Delle Delle domestiche Quindi Sì Sarà qualcosa Legata a lui Dato che hanno Continuato a farcelo vedere Però sì A parte un possibile Nuovo matrimonio Che la proveranno Ad obbligare a fare Non mi viene in mente Altro Che potrebbe succedere Sinceramente No però è vero È vero Vanir diceva Nello scorso episodio Ha detto Sventura Sull'intera famiglia Quindi Forse se non è un matrimonio Sarà successo qualcosa Di brutto Nella sua famiglia Che l'ha costretta A tornare indietro E abbandonare il party Probabilmente questo È quello che Ma lo scopriremo Nel prossimo episodio Questo è poco ma sicuro Comunque Per quanto riguarda Lo scontro con l'Itra Vi devo dire Caruccio Cioè Ci stava In generale È come dire Giusta la La critica Secondo cui Ogni volta Si risolve tutto Con la magia Dell'esplosione Di Megumin Ma Questa sarebbe Secondo me Una critica giusta Se fosse un anime Magari un po' più serio Cioè alla fine Ma in realtà Anche se fosse un anime serio Non è una cosa Che la vedrei Come una cosa Così Sbagliata Nel senso La cosa più forte Che hanno È la magia di Megumin Ci sta Che Usano questa Per Vincere contro Nemici Di questa portata Poi per carità In futuro Potrebbero pure capitare Situazioni in cui Non possono usare La magia di Megumin E in passato In realtà Già è capitato Tipo quando sono andati In spazi ristretti O in catacombe Luoghi sottoterra Dove la magia Non può essere usata Quindi Sinceramente Non ci vedo niente di male Che ogni volta Utilizzino la magia di Megumin Cioè Se è così forte Ci sta Che poi in realtà Alla fine Non è che usano Allora Secondo me La cosa brutta Sarebbe Se usassero Sempre solo La magia di Megumin Per vincere In un nanosecondo Gli scontri Ma alla fine Comunque contro l'Hidra Si sono abbastanza ingegnati Nel cercare di Catturarla Attirarla E Spingerla Sulla terraferma Poi Kazuma Con il Drain Touch Che abbiamo scoperto Essere OP A schifo Perché io pensavo Che il Drain Touch Era un'abilità Che ti prosciugava L'energia vitale Dell'avversario Ma questa cosa Era tipo Variava anche In base alla stazza Dell'avversario Perché in questo caso Con un Hidra Di 20 metri Mi aspettavo Che il Drain Touch Non gli faceva un cazzo Perché dipendeva anche Dalla capacità Dell'utilizzatore Di Kazuma Invece Da quello che sembra Sembra essere un'abilità Che ti prosciuga L'energia vitale In percentuale A prescindere da Quanto sei grosso Da chi sei Quindi è come Non lo so Se prosciugasse un Mi immagino Un 1% Della tua energia vitale Ogni secondo Che rimane Forse pure di Ogni secondo Che rimane in contatto A prescindere Se sei un mostro Di 100 metri Enorme O Uno sgorbio Di mezzo metro Quindi Molto molto forte Questa abilità Che ha indebolito L'Hidra E ha permesso A tutti Di Insomma Ucciderla Un po' divertente Anche la parte Con Darkness Che Si è messa A sbavare Sopra A Kazuma Perché si è immaginata Che adesso Dipendeva tutto Da lei Che era lei Il Non proprio Il padrone Ma che La vita di Kazuma Dipendeva da lei Quindi era lei In una posizione Di dominanza Rispetto a Kazuma Che lei ha sempre Considerato il suo padrone Che gli impartiva gli ordini Quindi Questa cosa l'ha fatta Eccitare Si è messa addirittura A sbavare Darkness è carinissima Nelle prime stagioni In realtà Non mi piaceva neanche troppo Perché trovavo Abbastanza Fastidioso Il suo personaggio Il suo carattere Questo eccessivo Masochismo Ma poi andando avanti Ha dimostrato Di non avere solo quello Cioè di non essere solo Il Guerriero Crociato Quello che è Masochista Rincoglionito Ma C'ha anche altri lati Più carini A differenza di Acqua Che invece è una rompicoglioni Che in ogni episodio Deve solo scassare Scassare il cazzo Dai non c'è molto da fare Cioè Non rompi Utile Per carità Perché comunque È utile Acqua Non si può dire Che non abbia Dei poteri forti Però scassa troppo Il cazzo Rompi i coglioni Ah per il resto In realtà Si è creata anche Questa Questa line Secondaria In cui devono Scoprire chi è Chi sono i ladri Che si trovano Qui ad Axis I ladri Da capelli argentati E che verranno dati 200 milioni A chi troverà Questi ladri Ci sta anche Vabbè Anche qua Megumin Che sta Si sta eccitando Perché lei Adora Adorava quei ladri Quella ladra Chris Da capelli argentati E va così E va così Ah poi si per concludere L'uovo L'ovetto Anche se vabbè È già stato detto Ma l'ovetto Di acqua Sì credo Proprio Che abbiamo Praticamente la conferma Che sarà Il girino Che si vede Nell'ending Anche perché Se non fosse il girino Non avrebbe molto senso Dato che Si vede appunto Sempre durante Tutta l'ending Certo Mi sembra strano Che un girino Venga da un uovo Magari non è Una rana normale Ma è un mostro Che si evolverà Tipo un magikarp Magari che Nasce girino Poi si evolve Diventa un drago Enorme Ma non credo Eh non credo Però chi lo sa Potrebbe essere E per il resto Non credo ci sia Nient'altro da dire Strano il comportamento Di Darkness Non me l'aspettavo proprio Che se ne sarebbe Andata così Considerando che L'ha già fatto Cioè questa è la cosa Non me lo aspetterei Perché già l'ha fatto Nella seconda stagione Quindi Staremo a vedere Staremo a vedere Cosa succederà Il masochismo di Darkness All'inizio era molto più accentuato Esatto Esatto Era proprio quello Che mi sembrava Che aveva solo quello Cioè lei era La persona masochista Fine Invece abbiamo anche Visto i lati Un po' più carini di lei Un po' più Simpatici Anche seri Abbiamo visto Che è molto più Intelligente Anche di Megumin Ed acqua Quando vuole Quindi Cioè c'è anche Altri lati Oltre al fatto Di essere masochista E basta Buonanotte Buonanotte Otaru Ci si becca A domani Però sì Si muore di caldo Io Ormai sto Tutte le sere Che faccio la live Sto col condizionatore Qua dietro Ho messo il lenzuolino Sulla sedia Perché Altrimenti sudo Sulla sedia E va così Tutto un piano Pensato da Kazuma Come ti ho detto Non chiaramente Dall'altra volta Un piano riferito A cosa? Ah il piano Del contro Lidra Intendi? Ma no Ma infatti Kazuma Non è Non è mica stupido Cioè lui anche Penso il più intelligente Qua in mezzo Se vogliamo dirla tutta Avrò detto Nello scorso episodio Che la famiglia di Darker Sarà rimasta senza soldi Ah forse Forse È vero Potrebbe essere È vero È vero Potrebbe essere Che allora lei voleva Sconfiggere Lidra Per i soldi Voleva sconfiggere Lidra Per raccimolare Un po' di soldi Da dare alla famiglia Assolutamente Anche per quello Che ha detto Di sconfiggere Lidra Che era il mostro Più forte Rimasto Nella bacheca Dei mostri Da affrontare Proprio per la questione Dei soldi Hai ragione È per quello È per quello È per quello E quindi regà Che voto diamo A questo episodio Secondo me è stato Un episodio carino Lo scorso Giusto per rivederlo Un attimo L'episodio 7 Sull'inizio Della cosa Dell'Lidra E poi a parte Quello Sì La cosa qua Credo che questo qua Era meglio Anche se lo scorso episodio Aveva la parte Nel ristorante Che era caruccio Però credo che questo qua Sia meglio Vediamo un po' E infatti allo scorso Ho dato 8 Credo che qua possiamo Possiamo alzare Possiamo alzare Leggermente però Perché Non so se dare 8 e mezzo A questo episodio Per ora il voto più alto Che ho dato È stato l'episodio 5 Credo che questo qua Ancora non arrivi A sti livelli Cioè per ora Mi sembrano tutti episodi Più o meno simili Tra di loro A livello di Comicità generale E di importanza Quindi non mi pare Che fino ad ora Nessun episodio A parte l'episodio 5 Al quale voi avete dato 9 Secondo me è un po' eccessivo 9 eh Però a parte l'episodio 5 Che è quello che si è un po' Stagliato sopra gli altri Tutti gli altri episodi Di questa stagione Sono stati Dall'8 All'8 più All'8 meno Comunque tutti su sta cifra qua Cioè non c'è stato Un dislivello particolare Da un episodio all'altro